Allora, io vi propongo un percorso da fare partendo da chi sono e il mio lavoro, quello che faccio. Sono un'educatrice, un'educatrice della cooperativa Itaca che lavora anche all'interno dell'associazione i ragazzi della panchina, quindi con persone tossicodipendenti, ma lavora anche in strada. La strada che vi invito a vedere come spazio aperto, luogo pubblico, quindi luogo non chiuso dentro a quattro mura. E diciamo che l'operatività di strada che faccio è con gli adolescenti e con le situazioni di disagio più conclamate, oppure le situazioni di disagio che gli altri ritengono tali. La strada è un po' come una marea che si muove secondo maree e onde. Se la conosci e la riconosci, stai a galla. Se ti limiti a giudicarla dalla spiaggia, oltre che presuntuoso, è pericoloso perché rischi che ti travolga. Per lavorare in strada e con la strada bisogna saper surfare, stare dentro l'onda ed uscirne vivi, stare dentro l'onda e saperla rispettare, stare dentro l'onda perché è una scelta, stare dentro l'onda e non rischiare di ritrovartici dentro per caso. È un lavoro di equilibrio, di allenamento e di sensibilità. In questo lavoro un aspetto fondamentale è l'ascolto attivo, cioè la capacità di comprensione verso l'altro. L'ascolto a volte non basta, c'è la necessità di qualcuno che traduca linguaggi, che traghettino informazioni. Saper ascoltare ma anche saper raccontare e farsi capire. Il non ascolto, l'ho chiamato questa, è una vignetta ed è la situazione più frequente, soprattutto quando i due soggetti che devono comunicare sono diversi. Spesso questo è l'atteggiamento un po' delle istituzioni, almeno qui a Pordenone. Non so se riuscite a leggerla. Lucy e Charlie Brown, senti qui Lucy, il mondo diventa ogni giorno più piccolo, non che le misure della Terra si riducano davvero, no, no. Sono i continui progressi nella tecnica dei trasporti che accorciano le distanze tra i vari punti del globo. Lucy dice, non l'avevo mai notato prima Charlie Brown, ma hai un naso buffissimo. Quello che si fa lavorando in strada è levare le etichette, eliminare lo stigma, l'etichetta è indispensabile per fare in modo che allo specchio non ci siano proiezioni di giudizio o pregiudizio, ma la realtà da affrontare. Perché ho parlato di questo che sembrerà non c'entri niente col piano regolatore? Perché il mio lavoro parte da, è basato su e tende a, la relazione. Ma la relazione non può prescindere dal luogo in cui si sviluppa. Infatti i luoghi determinano le relazioni, cioè le facilitano o le ostacolano. Le persone che vado ad incontrare in strada prediligono lo stare, tanto che invece del fare. Oggi la nostra società è la società del fare, infatti quello che si dice è ah, quelli lì non fanno niente, ma loro stanno. E stare è relazione. Ogni realtà di vita, le regole, stare in un luogo pubblico vuol dire avere a che fare con le regole. Ogni realtà di vita ha le sue regole, le regole della piazza, degli adolescenti, degli adulti, quelle del vivere politico. Bisogna sviluppare strategie all'interno delle quali ci sia la possibilità di creare contatti tra questi mondi regolamentati, per creare convivenze possibili e riconoscimenti condivisi. Questa è l'esempio di una regola. Data una regola, per quanto fondamentale o necessaria, dice questo sociologo e filosofo austriaco, ci sono sempre circostanze in cui è opportuno non solo ignorare la regola, ma adottarne una opposta, divieto di calpestare il prato. Quindi le regole non sono più importanti solo perché sono istituzionali o istituzionalizzati. Ok, questa è una provocazione. Vi hai dato il gioco del pallone, allora ci droghiamo. Questo per dire che le regole non sono neutre, hanno sempre delle conseguenze. Quindi se vieto qualcosa lo elimino dallo spazio della possibilità, che quindi resterà vuoto e potrà essere riempito da altre possibilità. Arrivo. Ok, gestire il conflitto. Dovremmo non avere paura di imparare a gestire il conflitto. È più facile di fronte a un conflitto rispondere con divieti e sanzioni. Facile e immediato. E questa amministrazione talvolta, purtroppo, tende a adottare questo tipo di strategia, perché lavora un po' per emergenze. Ma, scusa Monia, un secondo indietro. Ma, questo modo, lavorando per regole di vieti, migliorerà forse solo una delle due parti. Gestire il conflitto, invece, attraverso la relazione, intesa come scambio e condivisione, può dare molto di più. Ok, se proviamo ad allontanarci per un momento da una regolamentazione rigida degli spazi pubblici, ci si deve per forza avvicinare alla responsabilità personale, che la regola rischia di diminuire. Ecco che bisogna educare la responsabilità di chi vive la strada e lo spazio pubblico, ma anche di chi l'amministra. Se ci si concentra troppo, questa mi piaceva molto, ho messo la testa a posto ma non mi ricordo dove, se ci si concentra troppo sull'ordine, sulla regolamentazione, rischiamo di perdere ciò che dà senso a tutto, cioè noi. Ecco perché questa riflessione, partendo dalle relazioni sul piano regolatore. Grazie.